Sì Resisto e cerco di... Eh Così perché mi andava... Dai, dottoressa, sei sempre a ruttare, mamma... Ma veramente, che volgarità C'è schifezzo Una donna che rutta, solo due uomini possono farlo Guardate, non mi devi contestare, casa mia Ma che è sta cosa? Sei sola, eh? Sì Uno fatto Traccato l'altro E' one shot, e' one shot! E' uno no Quanto faccio subocco quando faccio così? Non è sopra, non è sceso 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 Ben tornate nel regno dei vivi Grazie Vieni, 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 ti prego Sì sì, sono la mitra Sto correndo L'ho sparato perché la fermo E' bianco L'ho sparato Sto andando via Sto andando via Sono morto Sì sì Eh ma è live da me Ma È live veramente da me No, non faccio Non gioco Cioè non stimo più Valorant Reale Streamavo ai tempi Ma ora non più Ci gioco di notte così per chillare Ma non faccio nemmeno ranked Completamente così nel chilling Come ti ho trovata? Eh perché anche se avevo la steamer mod su Valorant Quando tu vuoi vedere i replay Puoi vedere i nomi di chi ha giocato con te Scusatemi un attimo Ragazzi per forza qualcuno nel bush Vi giuro se ti ho il bush Sì Infatti c'è un bush lì Zanzare? Eh no perché volevo fare l'edit Invece mi ha fatto la scuola Io si do il bush te lo giuro eh Sì c'è una c'è una c'è una Io mi prendo il loot raga Grazie Madonna comunque ho un udito veramente guarda L'altro 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 Che udito signori Che udito Comparison Ecco l'eccolo l'avevi sentito bene? Hai mai fatto detto che hai sentito troppo bene? Quattro per quinto per l'16 Ah ma ma poverino cos'è? Quanto è stato? Ma cosa faceva? Poverino! Ma cosa stava facendo? Diciotto No Madonna che botta Madonna che sleppa Hai visto? Io l'ho enterrato l'ho enterrato l'ho enterrato Quanto? Fatto Ma ma ho attaccato Viv�� Aspetta Guardalo ho incastrato in un buco No, volevo farlo cadere Cerco di capirlo Sto facendo io Grazie mamma Grazie sorella Questa qua è brava comunque Sì non è stupido Ma adesso noi lo facciamo Dove sta Marti? Mi arrivo Ma ne vedi 17 lo dovrei aver fatto cadere No 114 qua Fatto Questa era veramente forte Mamma mi ve lo giuro Mi sta dando filo da torcere in una maniera incredibile Veramente bravo raga questa Mamma mia Arco Distrutto quello che sta a terra 80 al Al coniamo Vado gli attacchi Ok bravissima Ti prendo il finish Faccio una slurp Anch'io Devo prendere i mazzi Non ho nulla Fammi fare la slurp A volte tu per fuori Vai Va bene Full piece Morto Bravissima lei Rebox Morto Raga ho fatto un escape Ve lo giuro Sembrava tipo Sembrava tipo Rocco Siffreddy Quando stava per Non lo dico Salvo con te Non ho troppi ma Vado gli attacchi Tranquale Aspetta Mazzino Ah c'era io con te Peccato 60-90 O quanto io Devo slurparmi Aspetta un secondo Sto salendo infatti Oddio 128 questo Alla Power Ranger No che no che no No sono in tre Su di me Non ci credo Due Madonna mo Sto a tosca Sei illegale No vabbè Sei illegale Sono bollente Sei sopra Morto Morto no Non capisco dove stanno gli altri Vaccato a 41 white Vado vado Io ho fatto 150 totale Però se ho curato di 60 Di 100 Scoppiato Tieni la Colpi Questa c'è la Martina che ho trovato Distruttore Non cado Vado Faccio una slurpina Oh mio dio No cado un altro Cheiano 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 E' morto Gli altri Non lo so Ciacciami le bella Posso usciartele io Perché mi piacerebbe Sinceramente Enemy suppressed Sto per fare attaccontate Ti voglio belle pronte Innebolliamo prima Aspetta Innebolliamo E' che nella cappella Ma questo sta dormendo Ma che sto facendo Ma tutto bene zio Qua sotto Non puoi scuggire Trio E' una trio No 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 Di a trio Ti arrivoi raga E' una trio Ti arrivoi Ah ok Non ti arrivoi Non ti arrivoi Non ti arrivoi Non ti arrivoi da te Allora Non mi posso muovere da qua Poi c'è un'altra sirena Non scato uno Mi avete uno da voi Il lato da me 41 craccato E' in slurping canna però Che va già? Qua Che va Vai 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 Che cazzo tutto Bravissima Qua c'è l'altro 60 già Vabbè 31 signori Manca l'ultimo E' sempre lui già Vabbè raga Mannaggia Vabbè raga Non dico niente Cioè Devo vedere i miei danni Stanno mai sono più di 6.000 raga Stanno voi? Avrei fatto il panico Chicca Sicuro No 4.600 danni 21 kill 7 assist Io ho 9 Minchia 9 kill 9 assist E 32 di precisione 2.300 Mamma mia 4.600 danni raga Questa è da canarino Proprio Proprio Se volete uscire su youtube Salutate youtube Che vi metto Metto la chat di twitch Su schermo E' il momento E' il momento E' quel momento Signori Ciao youtube Abbiamo la chat Sulla destra Chi lo scriverà Uscirà nel video Ah beh in realtà Sono calda Quando ho un nuovo computer Che finalmente Non devo giocare con Input lag Delay Frame drop Che Cristo D E' realmente Ingiocabile E' raga Chi lo scriverà E' la città Grazie a tutti.